No, ma io voglio il resto del carlino, paperissima, voglio qualcuno, cioè, ma anche se io spalo da sola come una deficiente, adesso quella roba lì come la spalo io? Cioè, guardate, lui pulito, lui pulito, lui pulito, testa di minchia, guarda, ma guarda, ma come faccio io, porco, porco, guarda! Ma questo è l'egoismo della gente, cioè, hanno pensato, quella macchina lì di chi è, di quella creativa, ma guarda, ci penso io, ecco, dove la butto io quella? Se la butto giù dal tetto dove va? Mi va a ingolfare dall'altra parte, la butterei sopra questa io, cavolo, porco di un porco, guarda, guarda, aiuto!